Io ho l'abbonamento alla tv satellitare, io ho Mediaset Premium, io non ho nulla, sai l'ho fatto per il calcio, anch'io, anch'io, guardo tutta la serie A e spendo 29 euro al mese, anch'io vedo il meglio della serie A e spendo 19 euro al mese, anch'io e non spendo un c***o, sì ma io ho anche inclusa tutta la Champions League, la Champions League anch'io, è il mondiale per club, è anch'io, è la coppa del mondo, anch'io, E la UEFA Champions League, anch'io, sì e magari vedi anche il campionato spagnolo, certo, grazie allo streaming posso vedere tutto il campionato spagnolo, tedesco, olandese, coreano, giapponese, congolese e anche il nigeriano, ma posso vedere anche altri sport come la pallacanestro, il rugby, la pallavolo, il torneo nazionale di bocce, E tutto questo a 0 euro, per sempre Sti cazzi Ah è comunque libero di scegliere